Nel capitato in passato vi rivolgevi a una platea anche più numerosa, ma in questo momento l'impatto è molto molto forte, quindi mi limiterò a dire due parole per ringraziare tutti i componenti del comitato e direttivo che avete pensato di dedicare a mio padre questo circolo e quindi noi siamo tutta la mia famiglia, vi ringraziamo, siamo anorati e lui si mi dà. Inoltre volevo ricordare tutte le altre persone che insieme a mio padre, che purtroppo non ci sono più, hanno fatto tantissimo per questo partito, portando avanti sempre gli ideali fermi, a cui credevano fermamente e l'hanno portato avanti sempre con orgoglio, quindi non li nomino, ce l'ho tutto in testa perché magari potrei dimenticare qualcuno e farei il tuo posto, ma è giusto che questo venga ricordato. E poi, devo dire bravi a tutti voi perché compiere questo progetto e portarlo avanti sicuramente non è stato fatto, ma ci siete riusciti e quindi vi faccio i complimenti in bocca al lupo e che questa storia possa condurare e che la fiamma di colore possa ancora condurare. Grazie. Grazie. Grazie망. Grazie. Grazie a tutti per la maggioranza. Grazie a tutti.